Ciao ragazze, terzo video spacchettamento di campagna 16, non finiranno più questi video, spero che la fotocamera non ci abbandoni. Allora cominciamo subito con i bisù, ovviamente anche questo in collaborazione con Snobbina Stilosa, ricordate sempre di andare a vedere anche il suo video. E' arrivato il bracciole da uomo in questa confezione qui, che doveva arrivarmi da qualche campagna, finalmente è arrivato prima delle feste, ed è questo qui. Allora così è la chiusura, molto facile, ok, e questo è il bracciale da uomo, qui è plasticoso comunque, non è ecopelle secondo me, però per 5,95 euro devo dire che è molto carino, poi mi piace anche che arrivi nella confezione nera, bello bello bello, dopo lo sistemiamo per bene, oddio. Poi è arrivato, ah questo è molto bello, sono praticamente, è il set Angelica, che arriva in questa confezione qui, ovviamente anche queste confezioni più particolari hanno le confezioni Avon protettive. Questo qui è praticamente la confezione tutta scintillante, bellissimo, in questo colore argento chiaro. E questo è il set Angelina, allora aspettate perché questi me li deve mettere a fuoco per forza. E questo è il set.